Ciao, sono Silvia alias Uncinetto d'Argento e ti do il benvenuto in questa nuovissima classe di uncinetto dedicata al mondo degli amigurumi. Questo corso non ti servirà solo per imparare a realizzare un amigurumi, ma apprenderai tutte le nozioni e le tecniche per creare i tuoi amigurumi su misura, che siano progetti ideati da te oppure per seguire pattern o schemi. Abbiamo un programma ricchissimo, vedremo infatti insieme materiali e strumenti, studieremo l'amigurumi e vedremo una panoramica di tutti i punti base che ti serviranno per realizzare i tuoi progetti. Lavoreremo poi insieme l'amigurumi passo passo e vedremo come creare le forme utilizzando i punti e concluderemo poi il nostro percorso con tecniche fondamentali. Ma non solo, all'interno di questo corso troverai degli approfondimenti, vedremo infatti un pattern che ho studiato su misura per te per realizzare una carinissima balena amigurumi. Questa base ti sarà poi utile per realizzare tantissimi altri progetti, ma non solo, all'interno del corso andremo ad approfondire le abbreviazioni che ti consentiranno di leggere e creare i tuoi schemi in inglese e in italiano. Andrai poi ad approfondire tutte le tecniche per modellare i tuoi progetti e vedrai gli amigurumi per te non avranno più alcun segreto. Questo corso è perfetto per te se non hai mai realizzato un amigurumi e vuoi fare un percorso passo passo. Ma questo corso è anche perfetto per te che magari hai già realizzato qualche amigurumi, ma vuoi fare un upgrade delle tue conoscenze per creare i tuoi progetti. Questo corso è perfetto anche per te che magari sei già un ninja del mondo amigurumi, ma vuoi approfondire ancora di più le tue conoscenze e fissare tutte le nozioni per creare i tuoi progetti e staccarti da pattern e schemi realizzati da altri. Questo corso è inoltre perfetto per te se stai cercando un corso digitale fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da casa tua e in totale sicurezza. Potrai infatti visionare il corso da tantissimi dispositivi, cellulare, tablet, pc, persino smart tv. Insomma una guida completa per realizzare i tuoi amigurumi. Che cosa aspetti? Inizia ora la tua avventura di apprendimento in Sarapogliese Academy. Introduzione e programma. Ciao sono Silvia di Uncinetto d'Argento e ti do il benvenuto all'interno del nostro corso dedicato agli amigurumi all'uncinetto. Guardiamo insieme il programma del nostro corso. Partiremo da introduzione e programma, questo video che stai guardando e avrai modo anche di scaricare il programma del corso all'interno di Sarapogliese Academy. Cominceremo poi il nostro viaggio vedendo i corsi correlati al nostro corso amigurumi, quindi corsi che troverai sempre qui in Academy che possono esserti utili per migliorare la tua esperienza nel mondo dell'uncinetto. Passeremo poi ai materiali e strumenti. Impareremo come scegliere il filato per i nostri progetti amigurumi, se c'è un uncinetto più adatto o meno per creare i nostri progetti e scopriremo come realizzare il nostro kit di strumenti indispensabili. Scopriremo poi una categoria speciale di accessori dedicata proprio alla creazione dei nostri amigurumi e poi passeremo allo studio dei nostri progetti, che si tratti di un amigurumi creato dalla nostra fantasia o un progetto da riprodurre, sarà importante capire come disegnare il nostro progetto. Impareremo come leggere gli schemi e sempre qui all'interno del nostro corso troverai una raccolta di abbreviazioni e uno schema che ho preparato apposta per te da scaricare. Faremo poi una velocissima panoramica dei nostri punti base. Ripasseremo la catenella, la maglia bassa, la maglia bassissima, mezza maglia alta, alta e altissima, punti base dell'uncinetto che potranno servirti per creare i tuoi progetti amigurumi. Inizieremo poi la parte attivissima del nostro corso lavorando il nostro amigurumi. Vedremo come partire realizzando il cerchio magico oppure i punti catenella. Scopriremo come creare gli aumenti e le diminuzioni invisibili all'interno del nostro progetto. Ti svelerò poi trucchi e suggerimenti per una lavorazione ottimale per i tuoi progetti. Passeremo poi a come creare le forme con i punti. In questo modo potrai realizzare l'amigurumi, il progetto su misura per te tratto dalla tua fantasia. Vedremo come allargare il nostro lavoro, come crescere in altezza, come stringerlo e soprattutto la chiusura invisibile, così da creare tutte le varie parti del tuo amigurumi e scopriremo poi le forme più frequenti che potrai utilizzare per creare il tuo progetto su misura. Vedremo poi tecniche fondamentali come il cambio colore, l'imbottitura e le cuciture e andremo a concludere il nostro percorso vedendo come assemblare i nostri progetti. Io non vedo l'ora di fare questo viaggio insieme te. Che cosa dici? Cominciamo? Come leggere gli schemi. Per creare, progettare progetti amigurumi abbiamo bisogno di ausilio, di pattern oppure schemi. Se sei già pratico del mondo dell'uncinetto saprai che esistono già per creare ad esempio dei capellini, capi di abbigliamento, maglie. Anche in questo mondo si utilizzano e viene utilizzata una terminologia particolare fatta di abbreviazioni. In questa unità di apprendimento andiamo ad approfondire le abbreviazioni più importanti in lingua italiana che vengono appunto utilizzate per creare i nostri schemi. Le abbreviazioni in italiano più utilizzate sono M che sta a indicare maglia punto, cat che indica la catenella o catenelle, MBS maglia bassissima, MB maglia bassa, MMA mezza maglia alta e MA maglia alta. Questi sono alcuni dei punti fondamentali per le creazioni all'uncinetto di qualsiasi genere. Ma non è finita qui, vediamo le prossime. Abbiamo M-A-L-T, Malt, maglia altissima, AUM, aumento a maglia bassa, ma possiamo anche trovarlo poi in alcuni schemi anche con mezza maglia alta o maglia altissima, DIM, diminuzione a maglia bassa, RIP, ripetere, quindi ripetizione di un passaggio, e un numero tra due parentesi quadre. Queste vanno ad indicare il numero di maglie relative a quella riga o giro di lavorazione. Vediamone un'applicazione pratica. Immaginiamo di dover realizzare il secondo giro di un progetto e troviamo questa licitura. AUM in tutte le M del giro e tra parentesi quadra il numero 16. Questo vuol dire che in questo giro, il numero 2, dovremo lavorare un aumento, composto da due maglie basse nello stesso punto, in tutti i punti che ci si presentano nella nostra lavorazione. Al termine del giro, se avremo lavorato correttamente, avremo un totale di 16 punti. Vediamo un altro esempio. Giro numero 3, qui diventa un pochettino più complesso. Tra parentesi abbiamo AUM, virgola, un MB, rip, 8 volte, 24 in parentesi quadra. In questo giro, il numero 3, la parte che troviamo tra parentesi normale, la dobbiamo ripetere per 8 volte e sarà una combinazione di punti. Dovremo lavorare un aumento, quindi due maglie basse nello stesso punto di base e nel punto successivo dovremo lavorare una maglia bassa singola. Tutto questo andrà ripetuto per 8 volte all'interno del nostro giro e se avremo lavorato correttamente avremo quindi un totale di 24 punti. Questa sequenza di punti viene utilizzata per creare le forme base. Vediamo ad esempio un cerchio con una base di 6 maglie basse. È una di quelle più utilizzate quando si realizzano praticamente tutte le forme di amigurumi. In questo caso ad esempio ci viene detto di avviare 6 maglie basse all'interno del nostro anello cerchio magico, quindi avremo 6 punti al termine del giro e nei giri successivi per creare una forma che vada a crescere sui lati andremo a lavorare prima degli aumenti in tutte le maglie e poi andremo ad alternare sempre un aumento a un certo numero di maglie basse. Se guardi le nostre slide potrai vedere che ad ogni giro di lavorazione aumenta il numero di maglie basse che vengono ripetute all'interno della nostra sequenza, mentre la ripetizione della sequenza all'interno del giro rimane sempre costante, sarà sempre una ripetizione di 6 volte e ovviamente andrà a variare il numero tra parentesi quadra, quindi il numero dei punti che noi andremo ad avere al termine di ogni giro. Vediamo lo stesso procedimento con un cerchio con una base differente. Qui avevamo 6 maglie basse. Nella nostra slide successiva abbiamo invece un cerchio composto da 8 maglie basse di base. Il procedimento è lo stesso, quello che va a variare se noti sarà il numero di ripetizioni della sequenza all'interno del giro. Prima ripetevamo per 6 volte, in questo caso ripetiamo per 8 volte e ovviamente vanno a variare i nostri numeri compresi tra le parentesi quadre e anche in questo caso ogni volta che aumentiamo il giro in fase di aumento aumenta di 1 il numero di maglie basse per ogni sequenza. In questo modo abbiamo acquisito le basi su come leggere i nostri schemi. Al termine di questa unità di apprendimento video troverai altre due unità di apprendimento in formato pdf. Una di questa è dedicata alle abbreviazioni che abbiamo visto in lingua italiana che io ho deciso di approfondire per te anche in lingua inglese in modo che tu possa spaziare tra diversi pattern. Quindi troverai un breve riepilogo di quello che abbiamo appena visto e poi sviluppato anche in un'altra lingua. Troverai poi un pdf che ho preparato su misura per te e entrambi questi pdf tu potrai scaricarli e stamparli per averli sempre a portata in mano. Ho creato per te il pattern di un progetto amigurumi balena che può essere un'idea molto carina per fare ad esempio una bomboniera oppure un piccolo pensierino da regalare e non vedo l'ora di vedere l'amigurumi balena creato da te. Con queste unità di apprendimento potrai già iniziare a muovere i tuoi primi passi nel mondo degli amigurumi. Abbiamo quindi visto insieme come leggere i nostri schemi.